20. Eucaristia e Sacramento della Riconciliazione Giustamente, i padri sinodali hanno affermato che l'amore all'Eucaristia porta ad apprezzare sempre più anche il Sacramento della Riconciliazione. 21. A causa dell'egame tra questi sacramenti, un'autentica catechesi riguardo al senso dell'Eucaristia non può essere risgiunta dalla proposta di un cammino penitenziale. 22. Certo, constatiamo come nel nostro tempo i fedeli si trovino immersi in una cultura che tende a cancellare il senso del peccato, favorendo un atteggiamento superficiale che porta a dimenticare la necessità di essere in grazia di Dio per accostarsi degnamente alla comunione sacramentale. 23. In realtà, perdere la coscienza del peccato comporta sempre anche una certa superficialità nell'intendere l'amore stesso di Dio. 24. Giova molto ai fedeli richiamare questi elementi che all'interno delito della Santa Messa esplicitano la coscienza del proprio peccato e contemporaneamente della misericordia di Dio. 25. Inoltre, la relazione tra Eucaristia e riconciliazione ci ricorda che il peccato non è mai una realtà esclusivamente individuale. 26. Esso comporta sempre anche una ferita all'interno della comunione ecclesiale, nella quale siamo inseriti grazie al battesimo. 27. Per questo la riconciliazione, come dicevano i padri della Chiesa, è la poriosus quidam baptismus, sottolineando in tal modo che l'esito del cammino di conversione è anche il ristabilimento della piena comunione ecclesiale, che si esprime nel riaccostarsi all'Eucaristia. 29. Per questo la riconciliazione è un'esito di riconciliazione. 29. Per questo la riconciliazione è un'esito di riconciliazione. 29. Per questo la riconciliazione è un'esito di riconciliazione.